Cinque minuti a testa per vedere chi riesce a fare più rapine, Fede, sei pronta? Sì, assolutamente Con quella macchinettina lì cosa vorresti fare, scusa? Guarda, guarda, guarda il muso della mia auto Ah, non lo vedi, però c'è il sangue dei miei nemici lì, Stef Ma io so fare questo, Fede Buu, ho tirato un missile Ah, ok Non hai speranze Ma non ti servono i missili per rapinare, scusa, ti stanno sparando, Stef Oh, cavolo, scappa, scappa Non ne vado Non siamo in un bel quartiere Arrivederci, scusate, non volevo E ragazzi, come va? Io sono Fede, Niki Io sono Stef e che si giochiamo a GTA 5 Ed eccoci qua in un nuovissimo episodio di GTA in cui io e Stef ci sfideremo in una bella challenge Tornano le challenge su GTA, non so da quanto tempo Dopo non so quanti mesi, però tornano, certo E tornano col botto Allora, come funziona la sfida di oggi? Avremo 5 minuti a testa per vedere quante rapine riusciamo a fare nei negozi E possiamo scegliere un veicolo e un'arma Quindi non possiamo rubare altri veicoli, non possiamo utilizzare altre armi Abbiamo soltanto un veicolo a testa, un'arma a testa Vediamo quante rapine riusciamo a fare Sarei interessante Io, Fede, mi sono studiata addirittura un percorso da fare Per vedere un pochettino Questo è il punto di partenza e varrà anche per te Ok Ok, la mia idea è rapinare questo Ripartire subito col veicolo e andare a questo Ammassare un po' di polizioti che credo che a quel punto saranno arrivati Assolutamente Cercare di arrivare a questo E l'altro è lontano Ed è la parte difficile Sì E se proprio riesci a fare il miracolone Da qui a qui Quindi c'è un obiettivo massimo di 4 Che secondo me è puntare molto in alto Già, molto se ne faccio uno Forse la tattica migliore era fare ta, ta, ta L'arma che ho scelto, ovviamente il veicolo è questo qua Che è strabello, lo adoro troppo È forse uno dei miei veicoli preferiti L'arma che ho scelto è questa qui che è super personalizzata E direi che io posso partire, Fede, sei d'accordo? Sì, vai Ok, allora Allora, avvia il timer e lo dai a me così lo tengo d'occhio E ti so dire esattamente quando fada Allora tieni, ti faccio un 3, 2, 1 e l'avvi 3, 2, 1, via Vai, vai, avviato, avviato, avviato Ok, veloce, 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 veloce Allora, la mia tattica è questa Ok Arriviamo al primo Preparo già l'auto per ripartire Ok Metto il segno sul prossimo posto Entro e lo rapino Fino a subito Se ho fatto bene i miei calcoli Riesco a ripartire Prima che arrivi la polizia In modo tale Che almeno al secondo Riesco ad entrare Il discorso sarà Riuscire ad ammazzare I poliziotti Per andare al terzo Assolutamente Ok Vai 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 Sì perfetto 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 Però quanto sono di tempo? Un minuto adesso Quindi vai 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 Che ritmo Che ritmo Prima di fermarmi Stesso discorso Rispetto a prima Mollo l'auto qui Metto il segno sul prossimo Che qua Ed è difficilissimo Arrivarsi senza un segno Scendo dall'auto È dentro Vado 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 Buongiorno Perché li togli l'arma ogni volta Io non lo so È scomodissimo Eh lo togli giustamente Scusi Ma è ancora vivo? Ti stava per pestare Ho notato Per un proiettile nel petto Ti voleva uccidere Guarda l'animappa Vai 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 Oh cavolo Iniziano ad esserci anche gli elicotteri Steph Ok Faccio un tempo a salire Secondo te? Qui sarà tosta No Ok devi ucciderli Ok Devi ucciderli un po' e scappare Ok Cercherai di farti strada libera andare Ho visto Eh mamma mia È tosta vero è tosta Eh mamma mia Eh mamma mia Fere Non lo so se ce la posso fare Prova adesso Prova adesso Prova adesso Ah io mi hanno spratto un sacco Eh l'ho visto Per fortuna sta macchina un po' mi difende Ok 4 stelle di polizia Devo riuscire ad arrivare Entrare e prendere i soldi 2 minuti adesso Se prendo anche solo i soldi È fatta Ok Vai Ok Comunque guarda 5 minuti mi sembravano poco Però sei a 2 Oh ma che fa quest'auto? Anche abbondanti Vai Steph Buongiorno macchina polizia Fere esattamente dov'è il market? È qui è qui È qui credo Lì davanti Lì davanti Vai 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 Perché ho un'idea Dimmi Blocco un pochettino con l'auto L'entrata così i poliziati hanno qualche problemino in più Rimetto l'arma Arrivederci Mi scusi Sì sono stato Ma non l'hai ucciso Steph? Ora sì Ora sì È arrivata una sberla Se sei uno scarsone non sei neanche uccidere Mi stavo sparando però Ti sparano Ti sparano Ok 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 Fere quanto sono di minuti? Allora 2 minuti e 56 Quindi stai per scoccare i 3 minuti Anzi di avere già scoccati nel mentre che lo dicevo Quindi sì 3 minuti Aspetta Perfetto Allora devo mettere il segno del quarto posto Non me lo fa fare perché risulto qui dentro Vado Stavo di riuscire Non puoi stare qui per sempre Aia Sì vabbè mi hanno già bucato prima di provare a riuscire Perché sono ovunque È certo Ormai sono tanti È finita vero? Eh credo proprio di sì Ma era un civile Steph Davvero? Che stava andando lì Aspetta a fare un'idea Vai Che idea? Se faccio saltare in aria tutto? Non so se possa saltare in aria Non lo so Facendo esplodere sì Però sparando non lo so Non ci ho mai provato A quanto sono di tempo Fere? 3.48 Ok Ok mi sto difendendo egregiamente Io provo a salire in auto Eh ma è proprio davanti alla tua auto 3 market E hai finito sei morto a 3.58 Quindi Ok Era fattibile Avevi ancora un minuto capito Un minuto di tempo per riuscire Riuscire a combinare qualcosa capito? Se potessi riprovare Avrei in mente una tattica Ma magari ci riproviamo dopo No Fere Vuoi fare solo un tentativo? Ok Il percorso che ha scelto Fere È totalmente diverso dal mio Abbiamo questo market qui Questo market qui E infine questo market qui Insomma Fere Non stai neanche puntando a fare 4 Perché poi il quarto è lontanissimo Ho visto com'è Com'è stato da testa Ah quindi dici Non lo so Io per ora provo questi Poi eventualmente mi cerco pure il quarto Ok Ho dovuto per forza cambiare zona Perché non penso che si possano rapinare gli stessi E poi è anche giusto fare dei percorsi diversi Anche secondo me Mi piace di più Poi come veicolo hai scelto questo? Questo è l'amore della mia vita Ok Nessuno Neanche i consolini hanno mai visto quest'auto Ma io l'ho fatta tanti mesi fa E la custodisco molto gelosamente Fatto ovviamente dal mio amico Lamar Riconoscerai lo stile di Benny Sì senza dubbio Ok E quindi la voglio usare Posso farti una domanda E onorare per questa challenge Posso fare una domanda o ti offendi Fere? Dipende Steph Che domanda è? Immagino che quella sarà l'arma che utilizzerai Certo deve essere anche abbinata Cioè che cavolo fai le cose poco abbinate qui Questa sia una livra molto bella Steph Ok comunque Non è blindata Sei sicura di poter reggere tre rapine senza un veicolo blindato? No perché il mio era parecchio blindato E mi difendeva parecchio dei colpi Sì Sicura? Perché è l'amore della mia vita Ok Mi proteggerà da qualsiasi Se lo dici tu Da qualsiasi intempi Io ovviamente sarò da passeggero perché altrimenti non potete vedere Fere Ma io non ti volevo Parto Dalla mia auto Vado Ok è partito il timer eh? Sì vado Vai vado Andrà malissimo Steph Andrà malissimo Ma almeno due devi farli eh Mi raccomando Ma secondo me puoi fare anche il terzo Allora qui scendo vado Ma perché tutta questa passeggiata? Perché mi piace passeggiare Vado Allora rimetto l'arma perché ho visto da te che te la toglie subito Brava Lo uccido in zero secondi Vado vado Ok Vado vado Rapino C'è già la polizia Steph Che succede di fuori? Io sono qua tranquillo Fere Mi stanno già inseguendo No non c'è nessuno Scappo Non c'è bisogno Mi dispiace averti Anzi non è vero che mi dispiace averti ucciso perché non me ne importa nulla Tanto mi faccio più soldi quindi va bene così Steph sei in mezzo alle scatole scendi Scendi Scusami Mi stai facendo perdere un sacco di tempo perché vuoi stare nel passeggero Sali Vai Fere vai Riparti 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 E io pensavo Perché mi hai fatto perdere Pensavo di essere rimasto come passeggero Comunque No devi scendere e aspettare che io risalga Vai forza 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 Guarda mi stai già facendo distrarre Che brava guidando con quest'auto Eh no è bella quest'auto Sì è molto meno probabile Steph Adesso devi stare attenta Mi sto distraendo perché sto cercando di capire dove è il market Sei arrivata è qui davanti Non ci pensare No 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 un po' più avanti Un po' più avanti Eh esatto vai E tipo al prossimo incrocio Ok Eccoci eccoci eccolo qua Ok Eccolo qua Eccolo qua Oh mamma mia mi stanno già sparando malissimo Vai Fere vai Fere vai Fere Ti seguo Ok vado a zig zag Cercando di schivare i proiettili Ok stendi il tipo stendi il tipo stendi il tipo Dov'è 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 Ah dall'altra parte Ok perfetto Togliti il tefe scusa Tranquil E c'eri in mezzo pure tu che dovevo fa Sei morto Sì Rapina Sono troppo forte scusa mia Non è colpa mia Sono troppo forte Comunque sto rapinando Sto rapinando Ok Ok C'è della polizia fuori Fere Ok aspetta Sparane due a tre E poi risali in auto È vero che non posso mettere il segno da qui dentro Il fatto è che è buio Fere ti stanno sparando tantissimo Non vedo niente Li sto uccidendo ma non vedo nulla Perché c'è buio Brava Brava ti dico ce ne sono altri tre almeno Quindi ancora non puoi uscire Ma sono tantissimi Sì sono tanti Sono davvero tanti Sono tanti e arrabbiati Mi hanno cerchiato Che faccio Mi hanno cercato malissimo Prova ad uscire e metterti dietro il fuoristrada Ok aspetta Aspetta sto panicando Ho troppa paura Occhio Vado Vado Non me ne fregano Ma mi hanno rubato l'auto Cioè ma Hai notato Io non me ne ero accorta Perché c'era molto buio Si stavano riparando negli sportelli della mia auto Come potevo riprenderla Quanto è passato due minuti Due minuti Sì sì Sei durata due minuti La sfida è stata vinta da me Ma abbiamo deciso di provare a collaborare Per arrivare a quattro rapine in cinque minuti Quindi ci siamo presi questo bellissimo mezzo Siamo ben armati Sì E come faremo Io entro e rapino Fere rimane fuori E ammazzata tutta la polizia In modo tale che io ogni volta posso rientrare nel veicolo A parte migliore E ripartire Ok 3 2 1 Ora Via Vai Ok Siamo partiti Siamo partiti Siamo partiti Il tragitto io voglio riutilizzare lo stesso di prima Dato che mi sa che per farne quattro è uno dei pochi possibili E certo Quindi Sei concentrata Fere Concentratissima Ovviamente non devi sparare all'inizio Lo so Steph Già dal secondo iniziamo a sparare Perché io ho avuto problemi dopo la seconda rapina Appena c'è necessità Esatto Vai Appena c'è necessità Ok C'è da dire che è molto più lento uscire da questo veicolo No vabbè quello si Che è un bel difetto Però Dai Qualcosa bisogna può sempre accettarla Allora Buongiorno Sì 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 Ha ragione Ha ragione Ha ragione Ha ragione Ha ragione Mi scusi Lo so non sono una brava persona Stiamo facendo fuori tutti Mi sa che abbiamo fatto arrabbiare anche le persone del distretto Vabbè certo Certo Però Per ora non sparare la polizia Ok Ok perché se aumentiamo le stelline siamo a tre Se aumentiamo già quattro diventa tutto più difficile Penso che sarò un po' stretta quando ti aspetto nella seconda rapina Perché lì vengo circondata anche io Perché ovviamente tu adesso mi hai messo la polizia Quindi anche io vengo circondata Capito Sì però tu sei in un blindato Cioè non ti dovrebbero poter far danno Lo spero Lo spero Non riesco a guidare quando devo guardare dove andare Mi dà un fastidio incredibile Lo so neanche io Vai Ok Secondo su Sì 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 Vado 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 Aiuto questo momento incurisco di più Fere abbiamo un elicottero sopra la testa Lo voglio far esplodere Aspetta Vai 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 È troppo in alto Sto cosa non va più in alto di così Eva Fere ci stanno circondando Vai Spara tutto Vai Distruggi tutto Sarà un problema perché adesso arriverà un sacco di polizia Mi faranno fuori Io me lo sento vai Fere non ti possono far fuori Abbiamo uno dei veicoli più forti del gioco Forza 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 Di fronte a noi di fronte a noi di fronte a noi in altro veicolo Ok vai 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 sali 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 Corri corri Abbiamo quattro stelline Stef Ok aspetta devo mettere il nuovo segno Vado Vai Oh mamma mia Perfetto 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 Siamo a due minuti adesso Quindi abbiamo tre minuti per farne due Di conseguenza dovrebbe essere fattibile Però dobbiamo fare molta più strada adesso Quindi comunque non è una passeggiata E soprattutto siamo a quattro stelle Quando collaboriamo riusciamo sempre a fare le cose migliori Comunque vai Oh dai 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 Che ce la facciamo Siamo arrivati eh Quasi Andiamo Dritto 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 e lo trovi Ok 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 Allora entro un po' così Si tolga di No Stef hai bloccato l'entrata No tranquilla dovrei riuscirci Io non so se sarà un problema Dovrei riuscirci a fare Ok ce l'ho fatta Sì buongiorno salve E Boom Ok vai Dove l'elicottero è lì sopra L'ho fatto fuori Vai Continua Continua Stanno arrivando un sacco di auto Ok Ok Io ho rapinato eh sto arrivando Sì Sto arrivando Fere Sto arrivando Fere dimmi che non sono bloccato qui dentro No Stef Fere Aspetta Non posso guidare Perché se guido non posso sparare Come faccio? Fere fammi esplodere il veicolo di fronte a me Eh come faccio? Non riesci a spararlo? No riesco a sparare Ok ok ce l'ho fatta Esci esci Corri Sì ma spara tutti i veicoli Tutti i veicoli Tutti i veicoli Vai Nel mentre che esci con le esplosioni come nei film Ok sono dentro Sono dentro Aspetta devo far esplodere anche quelli che solo ci sparano Ok Ok vai Corri Lo vedo dalla minimappa Lo vedo dalla minimappa Ti ho fatto venire una paura incredibile Stef Ho visto il fallimento Anche io Anche perché mi stavano mitragliando tantissimo Siamo a 3 minuti e 30 1 minuto e 30 per arrivare e rapinarlo Ok Ok Vai 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 Fere smetti di sparare Ti deve facendo prendere la mano È dovevo sparare però l'elicottero Quello mi stava dando fastidio Cerca di buttarlo giù l'elicottero adesso L'ho già buttato giù No c'è un altro dietro di noi Ah un altro ancora Ma ne arrivano come fugghi Sì 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 Perché quello mi spara tantissimo Dove sono dove sono Ce l'hai fatta? No non lo vedo Eccolo eccolo ora sì Però è dietro i palazzi Ok scendo Vorrei anche riuscire a sopravvivere Aiuto Vai Vai l'elicottero l'ho fatto fuori Ok Ok Sono dentro Ok Dimmi che ce la fai ti prego Qua c'è il delirio Stef 4 minuti Rapinato il quarto Riusciamo a farne uno al minuto Fere Ok Allora dobbiamo cercare anche di sopravvivere Io dico per dare l'ultima ciliegina sulla torta Cerchiamo di toglierci anche la polizia No vabbè Sì Impossibile Ormai voglio fare la sfida finale Come è troppo lento sto veicolo Fere come vuoi fare? Ci nascondiamo Trovo un bel nascondiglio Ci nascondiamo Adesso vi faccio esplodere questi Così non ci vedono scappare da questa parte E noi ci nascondiamo No Fere Dici che è impossibile Fere Abbiamo 5 stelline Fere 30 secondi In questo momento 30 secondi Se giro alla destra c'è un altro market Mi hai capito? 5 in 5 minuti Fere 5 in 5 minuti Corro Ok La prossima traversa alla sinistra Non devo sbagliare nulla guidando Non devo sbagliare nulla guidando 45 Vai 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 corri Accidenti Che ce la fai 50 Dai 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 ce la fai Corri 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 Ce la fai Io sto pensando alla polizia Ce l'hai fatta Steph 5 minuti tondi Ho fatto l'animazione invece che prendere i contanti Però dai È fatto È andata dai è andata È andata Guardate Fai vedere il timer? 5 minuti e 10 adesso Ma tanto ci sarà anche in editing C'è da dire Che ovviamente con questo veicolo è molto più semplice Perché è straforte Cioè fai prodere tutto Però è lento Ed è lento a farti uscire Farne 5 in 5 minuti Fare secondo me non c'è nulla da dire No siamo stati bravi Abbiamo fatto una grandissima impresa Siamo stati bravi Vediamo se riesco anche a risalire Eh ma è difficile Uh ce l'ho fatta Vai 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 Ce l'ho fatta Addio Ciao polizia Ragazzi Lasciateci un bel like Spero per una volta che avete il nostro video Potete considerare al link Ad iscrivervi Per non perdere il video Al tre episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima